Emergenza coronavirus, disagia raffica anche per i disabili che nel particolare momento in molti casi sono rimasti privi di alcuni importanti servizi. In settimana il grido di allarme è arrivato da Simone Di Tola di Rocca San Giovanni, padre della piccola Francesca, 7 anni, autistica in sindrome di Rett, che non può più soffrire delle tecniche di idrochinesi del reparto di medicina riabilitativa di Chieti perché chiuso, in attesa anche di assistenza scolastica domiciliare, di un ulteriore incremento di servizi alla famiglia nel particolare momento. A chiarire la situazione il sindaco di Rocca San Giovanni Gianni Di Rito, che ribadisce la sensibilità della sua amministrazione a pieno sostegno della disabilità, ma sottolinea come la didattica a distanza non sia di competenza del comune ma del distretto scolastico di San Vito e che va attivata in modo da mobilitare un operatore che sarà messo a disposizione dal comune stesso per le cure fisioterapiche a domicilio competente e l'ASL, ma occorre sempre la richiesta della famiglia, idem per ulteriori servizi domiciliari di competenza del comune. Una cosa fondamentale, al comune non esiste nessuna richiesta scritta da parte della famiglia di Tola, alla scuola non esiste nessuna richiesta da parte della famiglia di Tola, al consorzio che gestisse il sociale del comune di Rocca San Giovanni, non esiste nessuna richiesta, né tantomeno il signor di Tola è venuto a parlare con me. Allora innanzitutto faccia le sue richieste agli organi competenti e poi avrà le dovute risposte, ma sia chiaro che noi siamo pronti a qualsiasi soluzione per aiutare Francesca, la sua famiglia e tutte quante le persone che si trovano in difficoltà, tante tante, che noi come comune abbiamo attivato giorni fa un servizio di assistenza agli ultimi settantenni che non possono uscire per il fatto del coronavirus, per quanto riguarda la spesa, per quanto riguarda i farmaci a domicilio. Questo servizio non lo fa la protezione civile o quant'altro, lo facciamo noi consiglieri, in particolar modo la fa una mia consigliera, la signorina Caravaggio Carmelita. Quindi, per quanto riguarda il sociale, il Comune di Rocca San Giovanni assolutamente non accetta lezioni da parte di nessuno.